Renata Ravetti ha tenuto a battesimo questo teatro, otto anni fa, ora ha deciso di lasciare questo in carico, ma ha comunque voluto regalare un'altra stagione a Verbagna. Sì, devo dire che sono molto emozionata oggi, come se fosse la mia prima, invece è l'ultima, perché si chiude comunque un capitolo bello, importante della mia vita. Inaugurare un teatro, aprire un teatro, farlo nascere, credo che è un'occasione meravigliosa che può capitare a uno che fa il mio mestiere. E quindi sono contenta di chiudere con una stagione, credo che, insomma sono felice di firmare perché è una stagione alla quale credo, con degli artisti di qualità, di valore, che rispecchiano un po' quelle che sono le mie idee di teatro. Si alza il sipario il 10 novembre con Giuseppe Battiston nella valigia, poi il 23 novembre con i legnanesi, il 3 dicembre Greg e Fabio Troiano in Gli Insospettabili, il 21 dicembre La Notte dei Gospel, il 17 gennaio Aldo Cazzullo e Monio Vadia con Il Romanzo della Bibbia, il 1 febbraio Scene da un matrimonio, il 21 febbraio Oblivion, il 2 marzo Mariangela d'Abraccio nello Zoo di Vetro, il 29 marzo Neri Marco Re con La Buona Novella, il 9 aprile Elia del Gioco degli Dei con Alessio Boni. Quest'anno debutta anche Maggiore Danza, stagione della Fondazione Egri per la Danza. Maggiore Danza, prende il nome dal teatro, un cartellone di danza perché questo teatro è straordinario, una struttura perfetta per accogliere l'eccellenza della danza, non solo italiana ma internazionale, siamo molto contenti. Si comincia il 30 ottobre con la prima nazionale di Desespoir, con la compagnia Irene Tassenbedo, il 14 dicembre lo Schiaccianoci con la compagnia Egri Bianco Danza, il 10 gennaio Serata Romantica con Balletto del Sud, il 15 febbraio Dar Corpo allo Spazio con il Balletto di Torino, il 6 marzo Rifare Bach con Compagnia Zappala Danza, il 19 aprile Dar Corpo allo Spazio con Zero Grammi, il 31 maggio Mi Illumino d'immenso con Egri Bianco Danza. È una stagione comunque ricca, è una stagione per quanto riguarda il teatro che è a più livelli, c'è il teatro più impegnato ma c'è anche il teatro popolare, va ricordato che comunque è un centro che deve vivere secondo tutti i gusti e tutti gli aspetti della popolazione. Le novità hanno riguardato molto particolarmente la parte danza in cui si cammina verso un centro di produzione nazionale e regionale per la danza che non è ancora presente in Piemonte.